Oggi nella complessità della giornata affrontiamo anche due vertenze importanti, una IAPU che è quel progetto di lavori socialmente utili finanziato inizialmente dalla regione e poi come tutte le promesse di posti di lavoro futuri erano promesse al vento. Noi abbiamo instaurato un carteggio e un tavolo col governo perché mettiamo in campo dei progetti perché questi lavoratori e queste lavoratrici possano continuare a lavorare in impieghi socialmente utili e il Ministero dell'Economia l'altro giorno con una lettera che mi ha scritto il Vice Premier Di Maio ha preso l'impegno di individuare le risorse economiche. Quindi noi a breve manderemo i progetti per verificare se queste risorse economiche ci sono veramente o sono solo parole. Altro tema di cui sono molto preoccupato e che ne abbiamo visto le sofferenze proprio a causa di quel taglio di 110 milioni che dicevo prima è che i soci cooperatori che da 30 anni vengono pagati dal governo perché sono in carico al governo nazionale, fu un'operazione di tantissimi decenni fa, nel passato siccome il governo paga sempre in ritardo invece di pagare in anticipo eravamo noi come comune che anticipavamo e poi durante l'estate il governo ci restituiva i soldi. Il taglio secco di 110 milioni che ci ha procurato il Parlamento e il governo ha fatto sì che per questo anno noi non abbiamo potuto anticipare. Il governo l'abbiamo fatto clamorosamente sette giorni fa una mensilità con una delibera, il governo si era preso l'impegno che ci avrebbe mandato i soldi, i soldi non sono arrivati quindi noi dovremmo essere messi nelle condizioni altrimenti di dover fare non so come un'altra delibera per trovare non so come i soldi nuovamente. Quindi trovo assurdo che il governo non solo tagli ma che poi non dia subito i soldi a dei lavoratori che deve pagare il governo ma su questo continuiamo a non avere risposto e quindi credo che sia giusto stare vicini a questi lavoratori che stanno vivendo momenti di ansia e che noi stiamo facendo di tutto per sopperire a tagli, inerzie e dimenticanze assai gravi da parte del governo.